Il parco Antonio Farris spiega i motivi che lo hanno portato a gettare la spugna, dalla mancata adozione del piano, passando per le grotte e il concorso del direttore. La maggioranza ringrazia e risponde punto su punto. I comitati di Borgata applaudono al gesto di Farris, atto di dignità. Martedì una delegazione di confartigianato ha incontrato il sindaco per valutare la prima metà di mandato. Giunta rimandata, ancora tante le questioni aperte. Nel nostro TG l'intervista al presidente Mario Piras. Abbiamo intervistato il biologo tedesco Domenichi Gorlitz che ha parlato del progetto Abora, giunto alla quarta avventura, 17 anni dopo la prima esperienza partita da Alghero. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Come avete sentito anche dal sommario, ancora in primo piano le dimissioni di Antonio Farris da presidente del parco. In una lunga lettera è stato lo stesso professore a spiegare le ragioni. Non è stata realizzata la maggior parte degli obiettivi portanti e qualificanti per la gestione del parco e manca lo strumento gestionale principale, ossia il piano a scritto. Intanto la maggioranza in una nota lo ringrazia per il lavoro svolto e precisa. Non c'è stato alcun disinteresse dell'amministrazione. Con responsabilità rassegno le dimissioni in modo irrevocabile dopo essermi reso conto che i tempi della politica non sono i miei. Non poteva essere più chiaro il professor Antonio Farris che in una nota ha elencato i motivi che non hanno portato a dire Dio alla presidenza dell'ente. Uno su tutti il fatto che il piano del parco si sia arenato nonostante i buoni propositi dell'aprile del 2015, ma anche gli accessi a mare, la gestione delle aree costiere. Di questo, ricorda Farris, si era discusso nella primavera del 2015 in due propositive conferenze di servizi convocate negli uffici del sindaco. Si fecero diversi sovralluoghi, si presero contatti con i privati, interessati a dare finalmente una soluzione dignitosa all'annoso problema. Ci furono anche delle proposte che miravano a razionalizzare la viabilità non solo degli accessi a mare, ma anche della strada provinciale che porta il piazzale sovrastante alle grotte di Nettuno. Non successe nulla, denuncia l'ex presidente, con il risultato che molti tratti delle nostre coste, in modo particolare la Pineta e la spiaggia di Mogoni, sia lo scorso anno che questo, si sono trovati in una situazione di grande confusione, dove spesso il caos e i rifiuti l'hanno fatta da padrone. Nella lettera, Farris denuncia poi l'impossibilità da parte del parco di poter intervenire direttamente dalla fruizione e controllo della grotta di Nettuno. Una partecipazione del parco agli introiti provenienti dalla gestione della grotta consentirebbe di porre in essere tutte quelle attività, per esempio di monitoraggio, verifica carico antropico, controlli sulla sicurezza e sull'eventuale abbandono di rifiuti, accertamenti sulla salvaguardia della flora e della fauna, che il parco, dotato di precise professionalità e competenze, può garantire nei confronti del patrimonio carsico. Così pure, un minimo di flussi finanziari liberi avrebbe consentito al parco, tra le altre cose, di partecipare a progetti regionali, nazionali e internazionali, che prevedono un confinanziamento o garantire l'apertura di casa giudiosa anche ai fine settimana. Ma un'altra questione aperta, richiamata da Farris, riguarda le aree inquinate dell'Arenoso e quelle di Mugoni, colpite dal gravissimo incendio dello scorso anno. La situazione di degrado di queste due aree, scrive, richiederebbe soprattutto da parte dell'amministrazione regionale degli interventi urgenti e radicali. Invece, tutt'oggi, nonostante molte promesse di intervento, nulla o quasi è stato fatto e rifiuti e ciò che resta dopo l'incendio continuano a mostrarsi con tutta la loro bruttezza. Insomma, per Farris, sin troppe problematiche, rimaste senza risposta, ma anche un altro elemento che, nei suoi confronti dei due consiglieri di amministrazione, dice, ha creato una situazione di particolare sofferenza e disagio, ossia l'atteggiamento di sfiducia, almeno così è stato avvertito, nei nostri confronti che ha accompagnato tutto l'iter concorsuale per la nomina del direttore del parco da parte di coloro che alcuni mesi prima ci avevano dato piena fiducia. E intanto, come anticipato, la maggioranza in una nota lo ringrazia per il lavoro svolto e precisa, non c'è stato alcun disinteresse dell'amministrazione. Nel ringraziare il professor Antonio Farris per aver svolto con capacità e gratuità il gravoso impegno di presidente del parco regionale di Porto Conte. Interpretiamo le motivazioni che sono alla base della sua scelta, comprendendo l'amarezza di chi, armato di buona volontà, avrebbe voluto risolvere tutte le problematiche in tempi brevi e non considerando come spesso processi amministrativi e burocratici richiedano inevitabilmente tempi più lunghi. Si apre così la nota della maggioranza che segue di qualche ora l'ufficialità delle dimissioni di Farris. Non vi è stato alcun disinteresse da parte dell'amministrazione comunale nelle azioni di supporto alla gestione del parco, come dimostra il lavoro portato avanti in questi mesi dagli uffici programmazione e ambiente che hanno inserito e coinvolto la riserva naturale nella nuova fase di programmazione europea, candidandola in distinti progetti, affiancandola nella partecipazione alle fiere del turismo, ricordano. Per tutte le iniziative di importanza strategica in campo al CDA, l'amministrazione comunale e la maggioranza hanno ritenuto di dover affrontare le questioni più delicate con responsabilità e nella totale trasparenza. Ne consegue che non è intendimento di questa amministrazione svincolare il piano del parco dallo studio del piano urbanistico comunale, ritenendo necessario approfondire le tematiche e le scelte operate da precedenti amministrazioni. E ancor più, ritenendo essenziale programmare lo sviluppo urbanistico del territorio parco di pari passo con la progettazione del PUC. Consci dell'importanza della pianificazione, soprattutto in ambiti di particolare valore ambientale, naturalistico e pasagistico, è così, da subito, sorta l'esigenza di allineare gli strumenti, anche per quanto riguarda gli accessi a mare e la gestione delle aree costiere. Così come dimostrano impegno gli interventi programmati con 120.000 euro di fondi dal bilancio comunale per Santigori e per la messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco, oltre alle pressioni continue rivolti all'Agenzia regionale Laore e alla stessa Regione Sardegna per la bonifica delle aree inquinate all'Arenosu, scrivono ancora dalla maggioranza. La gestione del patrimonio carsico esistente, invece, in particolar modo la Grotta di Nettuno, è stata affidata dalla Regione al Comune di Alghero, che la esercita attraverso la Fondazione Meta, mentre sulle aree archeologiche è in corso una più ampia riorganizzazione gestionale in capo alla stessa fondazione. Infine, pur comprendendo e per certi versi condividendo un'impostazione di modifica dell'Assemblea del Parco, secondo quanto esplicitato dal professor Farris, non possiamo che prendere atto della decisione del Consiglio Comunale, che ha inteso non modificarne né i contenuti né la composizione, facendola coincidere con lo stesso Consiglio. Amministrazione e maggioranza che mai hanno inteso porre alcuna fiducia o sfiducia sull'iter concorsuale per la scelta del direttore, che passa tramite il concorso e le sue fasi di esplicita pertinenza dell'organo amministrativo dell'ente, e nulla hanno a che vedere con quello politico. Al professor Farris vanno i ringraziamenti per il suo generoso lavoro insieme a quello dell'intero Consiglio di amministrazione, concludono i consiglieri di maggioranza. E ci sono anche altre reazioni dopo l'addio di Farris. Il gruppo consigliare del PD, ad esempio, ritiene le sue dimissioni un fatto di estrema gravità per la città di Alghero e per la gestione del parco stesso. La grande professionalità e serietà della figura scelta a suo tempo da questa amministrazione ci aveva convinto a sostenerla fin dall'inizio, esprimendo a suo tempo il voto dell'EPD, ricorda il capogruppo Mimo Pirisi. Nella sua nomina presidente è spesso a garantire con la nostra presenza nell'Assemblea del Parco il numero legale. Oggi assistiamo a questa sua decisione irrevocabile, figlia di un abbandono da parte di chi prima lo aveva indicato e poi mamma hanno abbandonato. Le stesse persone che per scelta, accentratrice, hanno preferito piano piano ragionare e decidere le sorti del parco e del territorio dentro le stanze chiuse di Sant'Anna, in pochi e poco rappresentativi, con risultati evidenti a tutti. Crediamo che questa decisione del dottor Farris sia solo la punta dell'iceberg di un problema che il parco e l'intero territorio dell'agro sta vivendo da un po' di tempo a questa parte. Grazie presidente, grazie per il suo impegno, la disponibilità, la vicinanza alle borgate che ha dimostrato appieno in questi anni. Questo è invece il messaggio che hanno voluto lanciare i comitati di borgata di Maristella, Guardia Grande, Corea e Sassegada Tancafarrà. Un presidente, scrivono i rappresentanti dell'agro, che è stato capace di avvicinare il parco ai territori limitrofi abitati, che ha iniziato un dialogo costruttivo, fondato su umiltà e rispetto reciproco. Le sue dimissioni, presidente, rafforzano ulteriormente la nostra stima nei suoi confronti e nel suo operato, scrivendo di fatto la parola fine su un'esperienza che l'ha vista partire con noi con tanto entusiasmo per poi infrangersi fragorosamente su un incredibile, ingiusto e immotivato muro di indifferenza da parte della politica, tramutatosi poi in tante chiacchiere e intrighi di palazzo. Un ruolo divenuto inaccettabile, si legge ancora, per una persona della sua caratura, una decisione, quella delle sue dimissioni, che non possiamo far altro che approvare, poiché perdendola come presidente salva la sua dignità, un valore inestimabile, concludono i comitati criticando l'amministrazione per le tante e inaccettabili questioni ancora aperte. Facciamo la prima pausa per la pubblicità, tra poco. Martedì, nella sede comunale di Sant'Anno, la delegazione della locale confartigianato ha incontrato sindaco e giunta per fare il punto su quello che è stato fatto a metà mandato dall'amministrazione Bruno. Abbiamo intervistato il presidente Mario Piras per sapere come è andata. Finalmente la confartigianato ha incontrato la giunta comunale per valutare la prima metà di mandato, giunta promossa, bocciata oppure rimandata? Per il momento diciamo che è stata rimandata, ma rimandata a breve scadenza. Diciamo che già da fine anno chiederemo un ulteriore incontro, perché sappiamo che ci sono dei procedimenti in corso dove potrebbero dare delle risposte. Soprattutto per quanto riguarda i progetti, che sono tanti, soprattutto fine anno è tutto il 2017, però d'ora in poi non aspetteremo più così tanto tempo e diciamo che da un mese all'altro chiederemo sempre informazioni, perché abbiamo chiesto un documento dove sono stati calendarizzati tutti questi progetti, di conseguenza abbiamo date di inizio e date di ultimazione dei lavori. Quindi staremo molto attenti e valuteremo bene questa loro posizione, perché purtroppo ci è stato confermato che ci sono difficoltà con i dirigenti, noi però i tempi dell'impresa non sono i tempi della politica, di conseguenza noi vogliamo che vadano avanti, che trovino le soluzioni, perché l'impresa non può aspettare. Quali sono le criticità maggiori che avete rilevato e su quali punti vi aspettate un maggiore impegno da parte della giunta? Ma diciamo che una è la pressione fiscale, per esempio, che non abbiamo visto dei miglioramenti, anzi diciamo che la pressione è anche aumentata, perché se vogliamo parlare della nettezza urbana è già da due anni che paghiamo l'aumento della nettezza urbana, però abbiamo un servizio pessimo, quindi non possiamo continuare a pagare tariffe alte con un servizio di scarsa qualità. Sembrano loro aggiunti problemi, tra l'altro tra comune e regione, questo sicuramente non aiuta nemmeno con Fartigianato gli artigiani. Sicuramente no, noi siamo stati sempre presenti, tutta l'estate abbiamo partecipato agli incontri con l'amministrazione comunale e tutti i sindaci del territorio, proprio per dare una mano al nostro sindaco che fa il capofira di questi comuni, per avere dei risultati positivi per quanto riguarda l'aeroporto, adesso se ne sono creati ulteriormente questi per quanto riguarda la zona di crisi, l'area di crisi e noi sinceramente siamo preoccupati, da sempre abbiamo dichiarato che la regione ci stava prendendo in giro, oggi abbiamo la conferma, perché non si può davanti a dei documenti così trasparenti come quelli dell'aeroporto, dove ci dicono che si poteva rifinanziare, che il Ryanair poteva rimanere sul territorio e invece si continua da Cagliari a non dare risposte, quindi ci sono seri problemi che purtroppo le aziende ne stanno soffrendo. Poi per quanto riguarda anche adesso l'ultimo problema, beh questa è una cosa ancora più grave, diciamo che di tutti i comuni è stato Alghero dalla Rette l'unico a essere penalizzato, però noi sinceramente vogliamo vederci chiaro, infatti se non ricordo male per mercoledì ci sarà un incontro a Cagliari e noi ci teniamo a partecipare a questo incontro perché vogliamo dire la nostra, perché noi siamo sempre stati contrari affinché si formasse questa rete di comuni, noi eravamo favorevolissimi come tanti altri comuni, eravamo favorevolissimi alla città metropolitana di Sassari, purtroppo abbiamo perso un treno importantissimo, tant'è vero che stiamo perdendo dei pezzi importanti, vedi uno degli ultimi è anche la Camera di Commercio che stiamo rischiando di perdere, mentre invece con la città metropolitana ci sarebbe spettato di diritto avere la Camera di Commercio Nord Sardegna e così saranno tanti altri problemi, adesso c'è questo della Rette e non vorremmo che ci avessero chiusi da Cagliari dentro una Rette proprio per non avere voce in capitolo, perché quello sta succedendo. Rapporto tra amministrazione e dirigenti richiamato dal Presidente di Confartigianato Mario Piras che al centro di un documento a firma di nuovo centrodestra, pisdazze e patto civico, amministrazione nel mirino anche del PD. Alla comunicazione, dice il segretario cittadino Mario Salis, non seguono atti concreti. Se non c'è una macchina amministrativa che funziona è difficile, è impossibile, perché l'appalto per l'igiene urbana non l'ho fatto io, la commissione non l'ho fatta io, la perdita di tempo per trovare la commissione non è mia e gli appalti per le strutture sportive rifatti per ben tre volte, non li ho fatti io, bisogna dare a ciascuno i meriti e responsabilità. Nuovo centrodestra, pisdazze e patto civico non riportano queste parole che il Sindaco avrebbe pronunciato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale e che secondo i tre partiti di opposizione certificano pubblicamente l'incapacità di Bruno ad amministrare la città. Con un attacco senza precedenti nella storia del Comune di Alghero, il Sindaco scarica sui dirigenti del Comune le proprie incapacità a gestire la macchina amministrativa comunale, non rendendosi conto che quanto debita agli altri è in realtà una dichiarazione del suo fallimento politico e amministrativo. Dalle parole del Sindaco emerge la non consapevolezza del proprio ruolo e quello dei dirigenti. La parte politica, quella che è stata eletta dai cittadini, ha il dovere di guidare la macchina amministrativa per raggiungere gli obiettivi che si è data con il proprio programma, che coincide con le dichiarazioni che vengono rese al lato dell'insegnamento del Consiglio Comunale. Spetta ai dirigenti indicare il migliore percorso, comunque all'interno della norma, per raggiungere gli obiettivi politici e dall'amministrazione in carica, scrivono i tre partiti di opposizione. Contestualmente leggiamo il robuante comunicato stampa con cui la stessa amministrazione comunale si vanta del supposto nuovo corso per l'affidamento degli impianti sportivi, effettuati come da norma attraverso bandi di evidenza pubblica. Se tutto va bene in merito della politica, se non va bene colpa dei dirigenti. Crediamo che questo atteggiamento infantile, poco responsabile dell'amministrazione, manifesti e l'assoluta incapacità di chi oggi governa la nostra città, concludono. Mario Bruno, che finisce nel mirino, e non è una novità anche del PD locale. La mobilitazione per l'aeroporto ha confermato l'amore del sindaco, per i toni forti, per le frasi ad effetto, per le parole roboanti, ma alla comunicazione non seguono fatti, atti concreti, provvedimenti in grado di migliorare le condizioni di Alghero, che il sindaco ministra ormai da quasi tre anni, scrive il segretario cittadino Mario Salis. La città è provata da un'estate mediocre, da un inverno che fa paura proprio a quei commercianti e operatori economici arrengati dal sindaco venerdì scorso. Gli ultimi dati segnalano un aumento dei disoccupati, con oltre 14 mila iscritti nelle liste, con una popolazione di 44 mila abitanti. Un dato spaventoso. In una situazione del genere, l'amministrazione comunale ha fatto molto poco. Il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico è arrivato a stagione inoltrata. La città sporca, le strade pieni di buche, la segnaletica stradale invisibile. Forse, conclude il segretario democratico, sarebbe preferibile che le tante parole, il sindaco di una città in sofferenza come Alghero facesse seguire qualche fatto concreto. Fa discutere anche una proposta di deliberazione predisposta dall'Aggiunta riguardando un periodico del Comune da distribuire nelle case, i cui costi di realizzazione stampa saranno coperti solo sino al 30% con la pubblicità. La prima a sollevare la questione è stata Monica Pulina, consigliere comunale di opposizione. Queste le priorità dell'amministrazione, il giornalino comunale denuncia. Non ci sono danari per gli asfalti, non ci sono danari per il verde, così come non ce ne sono per l'illuminazione, per il CRA o per il decoro urbano. Però ci sono danari per farsi campagna elettorale a spese dei cittadini. I cittadini vogliono risposte tangibili della carta straccia, ne hanno piene le tasche, che attacca la Pulina, cui segue l'intervento anche di Enza Silanos, del Meetup Alghero, area Movimento 5 Stelle. Al grido di dolore emergente da una città oltraggiata e abbandonata nella più assoluta incuria comunale, l'incommensurabile sindaco risponde con un atto di generosità assoluta, nascita del periodico della città di Alghero. Finalmente questo illuminato primo cittadino ci delizierà, convincendoci su come si è riuscito a sconfiggere il degrado imperante ad eliminare i rifiuti sotto cui versa l'orgoglio cittadino, a sconfiggere il morbo nauseabondo di quella di San Giovanni, a far luce su un appalto dei rifiuti che non arriva mai e la cui trasparenza è un miraggio assai lontano. Finalmente sapremo con spot pubblicitari quali mirabili, scusate, ha in serbo per noi e quali strategie ha intenzione di porre in essere per reinventare una città da cui i turisti oramai rifuggono disgustati dal come venga trattata tanta bellezza. Riconoscimento doveroso a cotanto ardire fosse anche solo per i danari pubblici sperperati nella titanica impresa agli algheresi riconoscenti. Non resta che trattenersi nella spasmodica attesa della sua prima uscita dal titolo l'incantatore di serpenti sardie, il commento del meetup Alghero. Ancora pubblicità. Ed ora la cronaca perché nei giorni scorsi l'Interpol di concerto con le autorità italiane e rumene ha arrestato due gemelli, 33 anni rumeni, DV e FV, questa è l'iniziale, a carico dei quali vi era un mandato di arresto europeo emesso dal GIP del Tribunale di Sassari, il dottor Michele Contini, su richiesta del PM e il dottor Mario Leo. Il provvedimento è scaturito in seguito all'irreperibilità dei due destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in seguito alla rapina compiuta l'anno scorso all'aeroporto Riviera del Corallo, quando una banda, composta da otto persone col volto coperto da passamontagne e armati di mazza, dopo aver infranto la vetrata della hall, si erano impossessati dello sportello Bancomat contenente 160 mila euro, scardinandolo dal pavimento e caricandolo su uno dei due furgoni per poi fuggire. Intervenuti sul posto, i carabinieri del Comando Provinciale di Sassari erano riusciti ad intercettare e bloccare una parte del commando, arrestando sei uomini, un albanese, quattro rumeni e un sassarese. Le successive analisi compiute dal res di Cagliari, quindi accertamenti biologici e datiloscopici sui guanti usati dei due e le autovetture utilizzate dal commando, hanno infine permesso di identificare i gemelli rumeni, già arrestati dai carabinieri della tenenza di Valle Doria, nell'ambito di un'altra attività di indagine denominata Full Time e diretta dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Questi, scarcerati lo scorso dicembre dopo un breve periodo di arresti domiciliari, avevano lasciato l'isola e si erano resi irreperibili fino a pochi giorni fa. E da questa mattina la sede del Parco di Portoconte, ovvero Casa Gioiosa, sta ospitando la quinta edizione dell'Educational Day, rivolto ai dirigenti e docenti delle scuole sarde, dove gli operatori del Centro di Educazione Ambientale CEAMAT presentano il nuovo catalogo delle proposte di educazione ambientale per l'anno scolastico in corso. Tante le novità contenute nell'opuscolo informativo che di fatto racchiudono il percorso sempre più ampio di collaborazione con il territorio e le componenti produttive. Per il 2016 sono previste diverse novità, ne abbiamo parlato con l'assessore all'ambiente, Raniero Selva, presente anche lui questa mattina. Siamo qui nel Parco di Portoconte, insieme all'area marina protetta di Capocaccio di Israppiana e con la collaborazione del Parco regionale di Portoconte per il quinto Educational Day organizzato per le scuole. Un appuntamento annuale che è riservato ai dirigenti scolastici è dedicato alla presentazione del E-Day che è istituito dal CEAMAT, Centro di Educazione Ambientale Marino e Terrestre. Un appuntamento che ha un programma benedificato, una giornata, una full immersion per i direttori didattici, per gli insegnanti, per le maestre di ogni ordine e grado che vengono da tutta la zona del territorio algherese, quindi da Sassi, da Itti, insomma da diverse località. Sono in 54 insegnanti con diverse scuole. Questo Educational Day è rivolto soprattutto per iniziare a far capire ai giovani e ai bambini quelle che sono le tematiche ambientali, tematiche ambientali che ovviamente si ripercuotono poi nella crescita. Quindi un Educational Day rivolto soprattutto per informare ed educare i ragazzi che poi porteranno all'interno delle loro famiglie queste grandi esperienze. Ci sono delle novità anche quest'anno, c'è lo snorkeling, ci sono il coinvolgimento delle aziende del parco, quindi nelle scuole come sapete si è adottato il sistema dei prodotti del parco, i prodotti che insistono nel nostro territorio, quindi una promozione generale su quelle che sono le tematiche dell'ambiente. E credo che rivolgendosi ai giovani, ai ragazzi e ai bambini il futuro possa migliorare, perché come voi sapete oltre alle tematiche ambientali si parlerà anche in futuro e in un prossimo futuro entro l'anno di un'educazione per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti nelle scuole. E quindi un'educazione che si rivolge proprio per iniziare a far capire che queste tematiche sono di una importanza vitale per la nostra città. Facciamo l'ultima pausa per la pubblicità. E' iniziato oggi a Lucca in Toscana, il Lubeco, ovvero Lucca Beni Culturali, grande incontro internazionale per la filiera beni culturali, tecnologia e turismo, da oltre dieci anni il punto di riferimento strategico per le pubbliche amministrazioni. Alghero presente in questa occasione il progetto di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2018, basato sulla valorizzazione complessiva dell'identità culturale della nostra città, che partendo dalla peculiarità lingua, storia e cultura, costruisce un progetto di crescita in termini di sviluppo economico, attrattività e inclusione sociale. Presenti il sindaco Mario Bruno, l'assessore alla cultura Gabriele Sposito, il dirigente di settore programmazione Salvatore Masia, il segretario generale Luca Canessa, insieme anche, come avete potuto vedere dalla foto, al direttore della Fondazione Meta, Paolo Sirena. E alcuni giorni fa ci siamo recati a Fertilia, precisamente nella base nautica USAI, che ha ospitato e collaborato a un interessante e particolare progetto denominato Abora. Si tratta della quarta avventura organizzata dal dottor Dominique Gorlitz, biologo tedesco, che insieme al suo equipaggio su un'imbarcazione di canne e legno ha affrontato il mare partendo da varie zone del globo. Un'attività nautica unica nel suo genere, che è partita 17 anni fa da Alghero. Ad aiutarci nella traduzione dell'intervista al dottor Gorlitz è Roberto Barbieri, che proprio nel 1999 fu lo skipper di quella Bora 1. In compagnia di Roberto Barbieri e del dottor Dominique Gorlitz è tedesco qui a Fertilia, alla base nautica USAI, perché c'è una cosa molto carina e soprattutto particolare da vedere. Chiediamo a Roberto Barbieri, che 17 anni fa fece parte della prima spedizione di Abora 1, di aiutarci a tradurre il dottor Gorlitz, che ha in programma di fare Abora 4, quindi un'altra spedizione che potrebbe partire dalla Sardegna. Puoi chiedere al dottor Gorlitz qual è la loro idea, l'idea sua e del suo equipaggio? Sì, qual è la tua idea con l'Aboa 3 e 4? Siamo un team di ricerca esperimentale che va a investigare le capacità di canne e di antiche. Si tratta di un progetto di archeologia sperimentale che vuole andare, a investigare sulla navigazione antica, alcune migliaia di anni prima di Cristo, e nelle rotte commerciali di navigazione nel Mediterraneo e anche in Atlantico. E allora la prossima domanda è effettivamente navigazione antica, come è fatta questa imbarcazione? Com'è fatta questa imbarcazione? Questa imbarcazione è fatta in accordo con le tradizioni antiche, soprattutto dalla pre-Egipto, che ha presentato molti bambini di canne e di canne e di canne. L'antico Egitto è sostanzialmente usando materiale, il giunco della laguna, diciamo canne, anzi sono proprio le canne palustri, che si usano ancora in Egitto, si usano sull'Ado Titicaca e si usano in Sardegna, a Cabras per esempio. Abbiamo parlato ovviamente della Sardegna, quindi del ritorno in Sardegna di questo progetto a Bora 4 ed è ritorno ad Alghero, perché alla fine, 17 anni fa, si è partiti proprio sempre dalla base nautica del signor Usai. Glielo può chiedere? Sì, il primo progetto è nato proprio qui, nella base nautica. Ok? Sì, Abora non esistirà se non avessi fatto Abora 1, Abora 1, qui, nella base nautica, circa 17 anni fa. Qui l'idea di Abora 1 ha iniziato, abbiamo fatto Abora 1, e detto da base nautica via Corsica a Elba e finito in Pompiombino, e questa è la razza di cui siamo qui, perché qui tutto ha iniziato. Quindi il primo progetto è partito proprio da qui, da questa base nautica di Cesare Usai, con l'assemblamento e la costruzione della prima barca, Abora 1, e adesso è un ritorno, la base nautica sta fornendo, ringrazia Dominica per questo, i servizi necessari per portare avanti questo secondo progetto. Prendono il via oggi le iniziative del programma Mondo Rurale 2016, esperienze itinerari, modelli per un'agricoltura sostenibile, per il sostegno e rilancio dell'agricoltura nel territorio comunale ed intercomunale. Oggi a partire dalle 14 in piazza Luqua Altesi, terra Orti in cassetta, laboratorio didattico a cura dell'associazione Orti Storti, in collaborazione con la scuola primaria Sacro Cuore, mentre per tutta la giornata, a fronte porto, nei presi dell'ex asilo Sella, esposizione di macchine e strumenti agricoli in collaborazione con gli agricoltori della Nurra. Alle 17.30 nella sala conferenze dell'Uqualte, la proiezione del docudramma I giorni dell'emancipazione, la riforma agraria e sociale dell'ETFAS, prodotto dal Comitato Zonale Nurra in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Sassar, immagini storiche di repertorio dell'ETFAS. A seguire conferenza pubblica per il lancio dell'iniziativa a presentazione pubblica dei 5 tavoli di lavoro per la coprogettazione con il territorio. Domani invece è previsto Fast Life Sardegna Endurance Cup, il primo trofeo del cavallo da Endurance, con un monte premi di 12.000 euro per tutti i cavalli nati e allevati nell'isola. La manifestazione è in programma nei comuni di Alghero e Sassari, nelle giornate appunto di domani e dopo domani. L'evento è finanziato dalla Regione Sardegna Assessorato all'Agricoltura, col patrocino della Federazione Italiana Sport Equestri, Regione Sardegna, Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura, Comuni di Alghero e Sassari. Domenica 16 ottobre invece trekking a cavallo Riviera del Corallo, con partenza dalle 8.30 dal maneggio 3 stelle di Portoferro. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguita, arrivederci.